Canto di Natale, quarta strofa, l'ultimo degli spiriti. Lo spettro avanzava lento, grave, silenzioso. Quando gli fu vicino, Scrooge si piegò sulle ginocchia, perché l'aria stessa attraverso cui questo spirito si muoveva sembrava fatta di oscurità e di mistero. Era avvolto in un pesante mantello nero che gli nascondeva la testa, il viso e il corpo e non lasciava visibile che una mano tesa in avanti. Senza questa mano sarebbe stato difficile discernere la sua figura dalla notte e separarla dall'oscurità dalla quale era circondata. Scrooge si accorse, quando gli fu accanto, che era alto e imponente e che la sua misteriosa presenza gli incuteva un timore pieno di rispetto e di solennità. Ma non sapeva altro, perché lo spirito non si muoveva, né parlava. «Mi trovo in presenza del fantasma dei Natali ancora da venire?» chiese. Lo spirito con la mano accenno verso il basso. «Stai per mostrarmi le ombre delle cose che ancora non sono accadute, ma che accadranno nel futuro? È così, spirito?» Prosegui Scrooge. Le pieghe superiori del manto si contrassero per un istante, come se lo spirito avesse inchinato la testa. Fu la sola risposta che Scrooge ottenne. Benché ormai assuefatto alla compagnia degli spiriti, quella figura silenziosa gli ispirava un terrore invincibile. Le gambe gli tremavano tanto che quasi non poteva reggersi ritto mentre si preparava a seguirla. Lo spirito si fermò un momento, come se viste le sue condizioni volesse dargli il tempo di rimettersi. Ma ciò servì solo ad aumentare il disagio di Scrooge. Lo riempieva di un vago e indefinito orrore, il pensiero che dietro lo scuro mantello occhi ultraterreni lo fissavano attentamente, mentre egli, per quanto facesse, non poteva vedere altro che la mano spettrale e una grande ombra nera. «Fantasma del futuro!» esclamò. «Ho paura di te, più di qualsiasi altro spettro che ho visto. Ma so che il tuo intento è di farmi del bene e dato che spero di vivere tanto, da diventare un uomo diverso da quello che sono stato, sono pronto ad accettare la tua compagnia con cuore riconoscente. Non vuoi dunque parlarmi?» Lo spettro non diede risposta, ma puntò diritto la mano davanti a sé. «Guidami!» disse Scrooge. «Guidami! La notte passa rapida ed è tempo prezioso per me, lo so. Guidami, spirito!» Il fantasma si mise in cammino nello stesso modo in cui era venuto. Scrooge lo seguì all'ombra del suo mantello ed ebbe l'impressione che fosse proprio quello a sostenerlo e a portarlo. Non è facile dire se fossero loro a entrare nella città o se fosse la città a sorgere dal suolo e a circondarli con il suo traffico. Essi vi si trovarono proprio nel centro, alla borsa degli scambi, in mezzo ai mercanti che correvano su e giù facendo risuonare le monete in tasca, conversando a gruppi, guardando l'orologio, giocherellando sovrappensiero coi grandi sigilli d'oro delle loro catene e così via, tali e quali a come Scrooge li aveva sempre veduti. Lo spirito si arrestò presso un gruppetto di uomini d'affari e notando che la sua mano gli indicava, Scrooge si avvicinò per udire i loro discorsi. «No!» diceva un grassone con una pappagorgia mostruosa. «Non ne so molto in proposito, so solo che è morto!» «E quando è morto?» domandò un altro. «Ieri notte, credo!» «E che cosa gli è capitato?» chiese un terzo, prendendo un abbondante pizzico di tabacco dalla sua grossa tabacchiera. «C'era da credere che non morisse mai?» «Dio solo lo sa!» disse il primo con uno sbadiglio. «Che cosa ha fatto del suo denaro?» domandò un gentiluomo con una faccia a paonazza e sulla punta del naso una pendola escrescenza che ballonzolava come i bargigli di un tacchino. «Non so nulla!» rispose l'uomo dalla pappagorgia, sbadigliando di nuovo. «L'avrà senza dubbio lasciato alla sua ditta. Certo non l'ha lasciato a me. Non so altro!» Lo scherzo fu accolto da una risata generale. «Il funerale sarà probabilmente modestissimo!» proseguì lo stesso interlocutore. «Giacché, in fede mia, non so davvero chi ci andrà. E se ci andassimo tutti noi in gruppo?» «A me non importa di andarci, purché si sia sicuri che abbiano pensato al pranzo funebre!» osservò il gentiluomo con l'escrescenza sul naso. «Se ci vengo, voglio almeno essere nutrito bene!» Un'altra risata. «Beh, io sono più disinteressato di tutti voi, alla fin fine!» fece il primo interlocutore. «Giacché io non porto mai guanti neri e non mangio mai fuori a colazione. Ma accetto di andarci, se ci va qualcun altro. Anzi, a ripensarci non sono proprio sicuro di non essere stato il suo più intimo amico. Qualche volta incontrandoci ci fermavamo a fare due chiacchiere. Arrivederci, arrivederci!» Quelli che avevano parlato e quelli che avevano ascoltato se ne andarono mischiandosi ad altri gruppi. Scrooge li conosceva tutti e guardò lo spirito per avere una spiegazione. Il fantasma scivolò in una strada adiacente e additò a due persone che vi si erano incontrate. Scrooge tese di nuovo l'orecchio, pensando di poter venire a capo di quell'enigma. Conosceva benissimo quei due. Uomini d'affari, molto ricchi e molto importanti. Egli si era sempre studiato di acquistarne la stima, dal punto di vista degli affari, certo, unicamente dal punto di vista degli affari. «Come stai?» chiese uno. «Come stai?» rispose l'altro. «Bene», fece il primo. «Il vecchio taccagno ha avuto la sua, eh?» «Così mi hanno detto», rispose il secondo. «Fa freddo, non ti pare? Tempo da Natale? Andrei a pattinare? No, no, ho da pensare a ben altro. Arrivederci!» Non una parola in più. Questo fu il loro incontro, la loro conversazione, il loro congedo. Scrooge, in un primo tempo, si meravigliò che lo spirito annettesse importanza a conversazioni apparentemente così futili. Ma, persuaso che dovessero avere qualche nascosto significato, si mise a considerare quale mai poteva essere. Difficile supporre che quei discorsi avessero qualche relazione con la morte di Jacob, il suo vecchio socio, dato che quel fatto apparteneva al passato e il fantasma si interessava solo del futuro. Né, d'altra parte, poteva pensare che essi alludessero a qualcuno che fosse in intimità con lui, ma non dubitando che, a qualsiasi cosa avessero alluso, questa doveva contenere un insegnamento morale che lo riguardava direttamente, risolse di far tesoro di tutto ciò che udiva e vedeva, e di osservare con particolare attenzione la propria immagine quando gli fosse apparsa. Era infatti convinto che la condotta di quel futuro se stesso gli avrebbe dato la chiave dell'enigma e gliene avrebbe resa facile la soluzione. Si guardò in giro, cercando la propria immagine, ma un'altra persona stava nell'angolo che abitualmente era stato suo, e benché l'orologio indicasse l'ora nella quale egli soleva essere lì, non vide nessuno che gli somigliasse nella folla che entrava di fretta nel portico del palazzo degli affari. Non fu molto stupito in ogni modo, perché avendo ormai deciso dentro di sé di cambiare vita, sperò e credette che tale risoluzione fosse la causa della sua assenza. Silenzioso e nero, il fantasma gli stava accanto, sempre con la mano protesa. Quando si distolse dalla sua pensierosa ricerca, Scrooge immaginò, dal movimento di quella mano e dalla sua direzione in rapporto a sé stesso, che invisibili occhi lo osservassero attentamente. Un freddo brivido lo percorse da capo a piedi. Lasciarono quell'animata scena e si recarono in un oscuro quartiere della città, dove Scrooge non era mai penetrato, benché ne conoscesse l'ubicazione e la cattiva fama. Le vie erano sporche e strette, le botteghe e le case miserabili, la gente seminuda, ubriaca, scalcagnata, ignobile. Vicoli e passaggi vomitavano sulle strade come tanti pozzi neri gli odori più pestiferi, immondizie e umanità vagabonda. Tutto il quartiere trasudava delitto, sudiciume e miseria. In fondo a questa specie di sordido labirinto, un basso negozio si apriva sotto al tetto sporgente di una casa. In esso si vendevano ferri vecchi, stracci, bottiglie, ossa e avanzi di pasti. Nell'interno, per terra, erano ammucchiati alla rinfusa chiavi rugginose, catene, chiodi, cardini, lime, bilance, pesi e ogni genere di rifiuti di ferro. Segreti che pochi avrebbero desiderato approfondire erano custoditi da quelle montagne di cenci, da quelle masse di grasso andato a male e da quelle ossa sepolcrali. Seduto in mezzo alla sua mercanzia, vicino a una stufa a carbone fatta di vecchi mattoni, stava un losco individuo dai capelli bianchi, sessantenne circa, che si era riparato dalle correnti d'aria con un lurido sipario di stracci svariati appesi a una cordicella. Fumava la pipa godendosi il lusso di quella pacifica solitudine. Scrooge e il fantasma si trovarono alla presenza di quell'uomo proprio nel momento in cui una donna, carica di un pesante fardello, scivolava nel negozio. Era appena entrata, che carica allo stesso modo o un'altra donna la imitò, seguita da presso, da un uomo vestito di un misero abito nero tutto logoro. Costui non fu meno allarmato dalla presenza delle due donne di quanto esse non fossero state riconoscendosi a vicenda. Dopo un breve momento di muto stupore condiviso dal vecchio dalla pipa, tutti e tre sbottarono a ridere. «Che la donna di fatica abbia la precedenza!» gridò quella che era entrata per prima. «La lavandaia sia la seconda e l'uomo delle pompe funebri il terzo!» «Bene, vecchio Giù, è un bel caso davvero, proprio come se ci fossimo dati appuntamento qui!» «Non avreste potuto scegliere un posto migliore!» disse il vecchio Giù, togliendosi la pipa di bocca. «Venite in salotto, lo conoscete già da tempo e anche gli altri non sono degli estranei. Aspettate un momento finché abbia chiuso la porta del negozio.» «Oh, come cigola! Non c'è in tutta la bottega un pezzo di metallo più rugginoso di questi cardini e sono sicuro che non ci sono nemmeno ossa più vecchie delle mie qua dentro! Ah 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 ah! Bella compagnia davvero e bene assortita soprattutto! Entrate in salotto, entrate!» Per salotto egli intendeva lo spazio dietro la tenda cenciosa. Ravvivò il fuoco servendosi di una vecchia bacchetta da tappeto per le scale, smoccolò la lampada già che era notte con il bocchino della pipa che poi si rimise tranquillamente in bocca. Mentre faceva questo, la donna che aveva parlato per prima buttò il suo fardello sul pavimento e sedette su uno sgabello con aria spavalda, posando i gomiti sulle ginocchia e fissando gli altri due con aria di sfida. «Che c'è di strano, signora Dilber? Che c'è di strano?» disse la donna. «Ognuno ha il diritto di pensare a se stesso. Lui non ha fatto altro». «Proprio vero», fece la lavandaia. «Nessuno ci pensava più di lui». «Allora perché state lì con due occhi imbambolati come se aveste paura, amica mia? Che cosa ci guadagnate? Non staremo a farci le pulci a vicenda, immagino». «No, certo», risposero insieme la signora Dilber e l'uomo. «Speriamo di no». «Benissimo, allora», esclamò la donna. «Basta così. Chi volete che ci rimetta per la perdita di poche sciocchezze come queste? Non il morto, immagino». «No, davvero», rise la signora Dilber. «Se quel vecchio avaraccio avesse desiderato tenersi queste cose dopo morto, seguito la donna. Perché non è stato più umano durante la sua vita? Se lo fosse stato, avrebbe avuto qualcuno che si sarebbe occupato di lui quando è crepato, invece di rimanersene a boccheggiare solo come un cane fino alla fine». «Questa è la verità più vera che mai sia stata detta», osservò la signora Dilber. «Ha avuto quello che si è meritato». «Vorrei che avesse avuto qualcosa di peggio», riprese la donna. «E lo avrebbe avuto, potete credermi, se avessi potuto mettere le mani su qualcosa d'altro. Aprite pure il fagotto, vecchio Joe, e ditemi che valore ci date. Parlate pure fuori dei denti. Me ne infischio di essere la prima e non mi importa che gli altri due vedano quello che c'è dentro. Anche prima di incontrarci qui lo sapevamo benissimo che tutti ci eravamo serviti e non è un delitto. Aprite il fagotto, Joe». Ma per mostrarsi gentili, gli altri due non permisero che ella scoprisse per prima le sue carte. L'uomo dall'abito logoro montò per primo sulla breccia e mostrò il suo bottino. Non era granché. Un paio di bottoni da polso e una spilla di poco valore. Niente altro. I due oggetti furono attentamente esaminati e valutati dal vecchio Joe, il quale notò col gesso sul muro le cifre che era disposto ad offrire per ciascuno di essi, le sommò e quando vide che dal fagotto non veniva fuori altro, fece il totale. «Questo è quanto vi spetta», disse. «E non vi darò un centesimo di più nemmeno se dovessi essere messo a bollire per non averlo fatto. A chi tocca ora?» Toccava alla signora Dilber. Lensuola, salviette, qualche capo di vestiario, due antiquati cucchiaini da tè in argento, un paio di pinze da zucchero, alcune paia di scarpe. Il suo conto fu segnato sul muro come il precedente. «Io sono sempre troppo generoso con le signore. È una mia debolezza che finirà col mandarmi in rovina», disse il vecchio Joe. «Ecco il vostro conto. Se osate domandarmi un centesimo di più o discutere, mi pentirò della mia generosità e vi toglierò mezza corona sul totale». «E adesso aprite il mio rinvolto, Joe», fece la prima donna. Per essere più a suo agio, Joe si inginocchiò e dopo aver sciolto molti nodi tirò fuori un rotolo grosso e pesante di tessuto scuro. «Che cos'è mai?» chiese. «Cortinaggi da letto?» «Oh!» rispose la donna ridendo e piegandosi in avanti sulle braccia concerte. «Cortinaggi da letto, precisamente. Vorreste forse dire che li avete tirati giù anelli e tutto mentre lui giaceva lì?» «Proprio così», disse la donna. «E perché no?» «Siete nata per far fortuna a voi», osservò Joe. «E certamente la farete. Per un individuo come quello non ritiro certo la mia mano se c'è qualcosa da portar via», rispose freddamente la donna. «Attenzione! Non mi lasciate cadere l'olio dalla vostra lampada sulle coperte adesso!» «Le sue coperte?» domandò Joe. «E di chi altri vorreste che fossero?» replicò la donna. «Non è facile che prenda freddo ora, anche se non ne ha, direi. Non sarà per caso morto di un qualche male contagioso, eh?» chiese il vecchio, interrompendo il suo lavoro e guardandola. «Non abbiate paura», rispose la donna. «Non ero poi innamorata della sua compagnia ad arrestargli accanto per queste sciocchezze, se così fosse stato. Ah, potete esaminare dentro e fuori quella camicia fino a perdere gli occhi, ma buchi non ne troverete e nemmeno sdruciture. Era la migliore che aveva, una gran bella camicia, e se non fosse stato per me sarebbe andata sciupata.» «Che cosa intendete per sciupata?» «Glielo avrebbero messa addosso per seppellirlo, potete esserne certo», rispose la donna con una risata. «Qualcuno era stato tanto scemo da farlo, ma io glielo ho levata via.» «Se il cotone non è sufficiente per quello scopo, vorrei proprio sapere a cosa serve. È quello che ci vuole per un morto. Non potrà sembrare più brutto di quello che sembrava con questa qui.» Scrooge aveva ascoltato con orrore il dialogo. Mentre sedevano in gruppo intorno al loro bottino, alla scarsa luce che emanava dalla lampada del vecchio, egli guardava quella gente con un odio e un disgusto che non avrebbero potuto essere più intensi. Fossero essi stati degli osceni demoni occupati a disputarsi il suo stesso cadavere.» «Ah ah 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 ah!» rise la solita donna quando Joe, cavato un sacchetto di flanella pieno di denaro, sciorinò sul pavimento le spettanze di ognuno. «Doveva finire così, vedete? Dopo aver fatto il vuoto intorno a sé quando era vivo, ha finito col far godere noi dopo morto!» «Spirito!» disse Scrooge rabbrividendo da capo a piedi. «Adesso capisco, capisco! La sorte di questo infelice potrebbe essere la mia! Ecco dove mi sta conducendo la mia vita! Misericordia! Che è mai questo?» Si ritrasse in preda ad un folle terrore. La scena era cambiata. Ora egli si trovava vicino ad un letto, tanto vicino da toccarlo. Un letto nudo, senza cortinaggi, sul quale, coperto da un lenzuolo a brandelli, giaceva qualcosa. Qualcosa che, pur essendo muta, si rivelava con un terribile linguaggio. La camera era buia, troppo buia perché fosse possibile esaminarla attentamente. Ma obbedendo ad un segreto impulso, Scrooge si guardò in giro, ansioso di sapere in che razza di camera si trovava. Una pallida luce penetrava dall'esterno e cadeva dritta sul letto dove, derubato, spogliato, solo, senza nessuno che lo vegliasse o lo uomo. Scrooge guardò il fantasma, che con la sua mano immobile indicava la testa del morto. Il sudario era così negligentemente aggiustato, che se l'avesse mosso appena appena col mignolo, Scrooge avrebbe potuto scoprire il volto. Ci pensò, capì come sarebbe stato facile e ne provò la tentazione, ma non aveva la possibilità di rimuovere quel velo più di quanto non avesse la possibilità di licenziare lo spettro che gli stava a fianco. Oh fredda, fredda, gelida, terribile morte! Ecco il tuo altare, circondato dal terrore, come tu vuoi, perché in ciò consiste il tuo dominio. Ma non hai però il potere di torcere un capello dal capo di colui che è stato amato, rispettato, onorato, né di renderne odiose le fattezze per i tuoi terribili fini. Non importa che la mano diventata rigida e pesante cada se è rilasciata, non importa che cuore e polso siano silenziosi, importa che la mano sia stata aperta, generosa, leale, che il cuore sia stato coraggioso e tenero, che il polso sia stato virilmente fermo. Colpisci, ombra, colpisci pure. Vedrai le sue buone azioni sgorgare dalla ferita e fecondare il mondo di vita immortale. Nessuna voce aveva pronunciato queste parole all'orecchio di Scrooge. Eppure egli le udì mentre fissava il letto. Pensò, se quest'uomo potesse risorgere, quali sarebbero adesso i suoi pensieri dominanti? L'avarizia? La durezza di cuore? La preoccupazione di arricchirsi lo hanno davvero portato a una bella fine? Giaceva nella sua casa vuota senza che né uomo né donna né bimbo potessero dire, è stato buono con me in questa o in quella occasione. In ricordo di una parola gentile io sarò gentile con lui. Un gatto graffiava all'uscio e c'era un rosicare di topi dietro la pietra del focolare. Perché volessero entrare nella camera della morte, perché fossero così impazienti ed eccitati, Scrooge non osava pensarlo. Spirito, disse, è un posto orribile. Lasciandolo non dimenticherò la lezione che vi ho appreso, credimi, ma andiamo. Il fantasma teneva sempre il dito teso verso quel capo. Capisco quello che vuoi e lo farei se potessi, ma non ne ho la forza, Spirito, non ne ho la forza. Di nuovo ebbe l'impressione che lo Spirito lo guardasse. Se vi è in tutta la città qualcuno che provi dolore per la morte di quest'uomo, chiese Scrooge risperatamente. Mostramelo Spirito, te ne supplico. Il fantasma distese la sua veste nera come un'ala davanti a lui. Poi, ripiegandola, rivelò, illuminata dalla luce del giorno, una camera nella quale stava una madre coi suoi bambini. Ella stava aspettando con trepida ansia qualcuno. Camminava avanti e indietro, trasaliva ad ogni rumore, guardava fuori dalla finestra, gettava continue occhiate all'orologio, cercava inutilmente di lavorare o un poco di cucito e solo a fatica riusciva a sopportare le voci dei bambini che giocavano. Finalmente, ecco il tanto atteso colpo di battente alla porta. Ella corse incontro al marito, un uomo ancora giovane, ma col viso abbattuto e sconvolto dal dolore. Vi era in quel momento su quel viso un'espressione strana, una specie di grave contentezza della quale egli sembrava vergognarsi e che cercava di nascondere. Sedette davanti al pranzo che era stato tenuto in serbo per lui sul fuoco e quando la moglie gli chiese timidamente, dopo un lungo silenzio, quali notizie portava, egli apparve imbarazzato a rispondere. Notizie buone o cattive? Fece lei per aiutarlo. Cattive, rispose. Siamo dunque completamente rovinati? No, Caroline, vi è ancora una speranza. Se si lasciasse commuovere, ella disse, se un tale miracolo avvenisse ci sarebbe ancora da sperare. Non può più lasciarsi commuovere ormai, rispose il marito. È morto. A giudicare dalla sua espressione, ella doveva essere una dolce e paziente creatura, ma nell'udire questa notizia esultò nel profondo dell'anima e lo confessò giungendo le mani. Subito dopo si pentì e domandò perdono a Dio e si rammaricò del suo malvagio pensiero, ma il primo sentimento era stato quello. Ciò che quella donna ubriaca della quale ti parlai mi ha detto ieri sera quando cercavo di vederlo per ottenere una proroga di otto giorni, quella risposta che io avevo giudicato un pretesto, era invece la verità. Non soltanto stava molto male, ma era moribondo. A chi passerà il nostro debito? Non lo so, ma prima di allora avremo il denaro e anche se non lo avessimo, sarebbe una vera sfortuna se l'erede fosse un creditore altrettanto implacabile. Puoi dormire tranquilla stanotte, Caroline. Sì, per quanto desiderassero mostrarsi tristi, il loro cuore era più leggero. I visi dei bambini che si stringevano intorno a loro per sentire cose che non potevano capire erano più allegri. Tutta la casa sembrava più allegra perché quell'uomo era morto. L'unica reazione provocata da quel luttuoso evento che il fantasma poteva mostrare a Scrooge era una reazione di gioia. Mostrami qualche sentimento di tenerezza collegata all'idea della morte, disse Scrooge. O l'orrenda stanza che abbiamo appena lasciata mi resterà sempre davanti agli occhi. Il fantasma lo guidò per strade familiari ai suoi passi e mentre camminavano Scrooge si guardava in giro cercando se stesso, ma inutilmente. Entrarono nella povera casa di Bob Cratchit, la dimora che Scrooge aveva già visitato e trovarono la madre e i figli seduti vicino al fuoco. Erano tranquilli, molto tranquilli. I piccoli Cratchit, già tanto vivaci, se ne stavano fermi come statue in un angolo, guardando Peter che aveva un libro aperto davanti a sé. Madre e figlia cucinavano. Erano tutti tranquilli, troppo tranquilli. Ed egli prese un bimbo e lo portò fra loro. Dove mai Scrooge aveva udito queste parole? Non le aveva sognate. Forse il ragazzo stava leggendole mentre egli era entrato assieme allo spirito. Perché ora non andava avanti? La madre posò il suo lavoro sul tavolo e si nascose il viso fra le mani. I colori mi fanno male agli occhi, disse. I colori? Oh, povero Tiny Tim. Adesso va meglio, riprese la moglie di Cratchit. È la luce della candela a darmi fastidio. Ma non voglio assolutamente che vostro padre mi veda con gli occhi rossi quando torna a casa. È quasi la sua ora. È già passata la sua ora, mamma, rispose Peter chiudendo il libro. Mi sembra che cammini più ad agio del solito da qualche sera in qua. Di nuovo tutto fu silenzio. Infine la madre disse con una voce ferma e allegra che solo per un attimo le tremò. L'ho visto tante volte camminare lesto. L'ho visto tante volte camminare lesto con Tiny Tim sulle spalle. Lesto davvero. Anch'io, disse Peter. Spesso. Anch'io, esclamò un altro. Tutti l'avevano visto. Ma era molto leggero. Ella continuò applicandosi di nuovo al suo lavoro. E suo padre lo amava tanto che non faceva fatica a portarlo. nessuna fatica. Ma ecco vostro padre che arriva. Gli corse incontro e il piccolo Bob entrò tutto avvolto nella sua sciarpa. Ne aveva bisogno, povero diavolo. Il tè era stato tenuto in caldo sulla griglia del fuoco e tutti fecero a gara perché si servisse abbondantemente. Poi due piccoli cracit si arrampicarono sulle sue ginocchia e gli appoggiarono le guance al viso, come a dirgli, non darti tanta pena papà, non essere triste. Bob si finse allegro con loro e parlò in tono allegro a tutta la famiglia. Guardò i lavori sul tavolo e lodò l'abilità e la sveltezza della signora Cracit e delle ragazze. Tutto sarebbe certo stato pronto prima di domenica, disse. «Domenica? Allora sei andato là oggi, Bob?» domandò la moglie. «Sì, cara», rispose Bob. «E avrei voluto che tu ci fossi potuta venire. Ti avrebbe consolato vedere com'è verde quel posto, ma avrei spesso occasione di vederlo. Gli ho promesso che ci andremo tutte le domeniche». «Oh, piccolo mio!» singhiozzò Bob. «Mio piccolo bambino!» Ebbe una improvvisa crisi di debolezza. Non riuscì a trattenersi. Se vi fosse riuscito, lui e il suo bambino sarebbero stati molto più lontani di quanto non fossero adesso. Lasciò la stanza e salì a un'altra, al piano superiore, tutta illuminata e ornata di rami natalizi. C'era una sedia vicino al letto del bimbo e si capiva che qualcuno era stato lì poco prima. Il povero Bob vi si accasciò sopra e, dopo essere rimasto assorto un momento, si ricompose. Baciò quel piccolo viso. Si sentì rassegnato a quanto era successo e tornò giù più tranquillo. Si misero tutti intorno al fuoco a chiacchierare, mentre madre e figlie continuavano il loro lavoro. Egli parlò della straordinaria gentilezza del nipote di Scrooge che aveva visto una sola volta, ma che incontrandolo quel giorno e notando che sembrava un po' giù, gli aveva chiesto che cosa lo turbasse a quel modo. «E allora», continuò Bob, «dato che è il più affidabile di gentiluomini che mai siano nati, io gli ho detto tutto. Ne sono sinceramente addolorato, signor Cratchit, addolorato per lei e per la sua buona moglie», mi ha detto. «Fra parentesi, come abbia potuto sapere questo, non lo so». «Saper che cosa, caro?» «Bene, che tu sei una buona moglie», rispose Bob. «Lo sanno tutti», disse Peter. «Ben detto, ragazzo», esclamò Bob. «Spero sia proprio così». «Addolorato per la sua buona moglie», ha detto. «Se posso esserle utile in qualcosa, la prego di venirmi a cercare», ha detto, stringendomi la mano. Sembrava davvero che avesse conosciuto il nostro tiny team e che soffrisse come noi. «Sono certa che ha buon cuore», fece la signora Cratchit. «Ne saresti ancora più sicura, cara», disse Bob. «Se l'avessi visto, gli avessi parlato. Non mi sorprenderebbe affatto, ricordate quel che vi dico, se procurassi a Peter un posto migliore». «Peter, hai sentito?», esclamò la signora Cratchit. «E allora», fece una delle ragazze, «Peter metterà su casa e se ne andrà per conto suo». «Smettila», ribatté Peter con una smorfia. «Qualcosa di simile potrebbe accadere un giorno o l'altro», disse Bob. «Benché ci sia ancora tanto tempo, mio caro Peter, ma quando anche ci si dovesse dividere, io sono sicuro che nessuno di noi dimenticherà mai il povero tiny team, questo primo distacco avvenuto fra noi». «Mai, babbo», fecero coro tutti. «E so pure», continuò Bob, «so pure, miei cari, che quando ricorderemo come egli era paziente e dolce, benché non fosse che un povero piccolo bambino, so che non litigheremo mai fra noi, perché così facendo dimenticheremmo il piccolo tiny team». «No, mai papà», fecero di nuovo coro tutti. «Ne sono felice», esclamò il piccolo Bob. «Molto felice». La signora Cratchit lo baciò, le figlie lo baciarono e due giovani Cratchit lo baciarono e Peter gli strinse la mano. «Spirito di tiny team, la tua essenza infantile veniva diritta da Dio». «Spettro», fece Scrooge. «Qualcosa mi dice che il momento di separarci è vicino. Lo so, senza capire come. Dimmi, chi era l'uomo che abbiamo visto giacere morto?». Lo spirito del Natale futuro lo guidò come prima, ma gli parve in un tempo differente. Infatti sembrava non ci fosse ordine nelle ultime visioni, salvo che tutte si riferivano al futuro. Lo guidò dove si riuniscono gli uomini d'affari, ma neppure questa volta egli si vide. Lo spirito poi non si fermò su nulla, ma proseguì quasi avesse un punto d'arrivo prestabilito. Alla fine Scrooge lo pregò di arrestarsi un istante. «Questo quartiere che stiamo attraversando», disse Scrooge, «è quello dove per molto tempo ho svolto la mia attività. Lasciami vedere quello che sarò nei giorni a venire». Lo spirito si fermò, ma la sua mano indicava un altro punto. «La casa è questa!», esclamò Scrooge. «Perché mi fai segno altrove?». L'inesorabile dito non mutò direzione. Scrooge si affrettò alla finestra del suo ufficio e guardò dentro. Era ancora un ufficio, ma non il suo. Il mobilio non era più lo stesso e un'altra persona sedeva alla scrivania. Il fantasma continuò a tenere la mano rivolta in un'altra direzione. Scrooge ritornò a lui e, meditando sul come e dove egli potesse essersene andato, seguì la sua guida finché giunsero a un cancello di ferro. Prima di entrare si fermò, guardandosi in giro. Un cimitero! Lì dunque giaceva il disgraziato di cui finalmente avrebbe saputo il nome. Era un posto davvero dignitoso, circondato da edifici, invaso da erbe ed erbocchi, bacce nutrite dalla morte e non dalla vita, soffocato da troppe tombe, grasso di un appetito soddisfatto. Un posto davvero dignitoso. Lo spirito si inoltrò fra le tombe e gliene indicò una. Scrooge si avvicinò tremando. Il fantasma appariva esattamente quello di prima, ma egli credette di scorgere qualcosa di nuovo, di insolito nel suo aspetto solenne. Prima che io mi avvicini alla pietra che tu mi indichi, disse Scrooge, rispondi a una domanda. Sono queste le ombre delle cose che saranno o sono le ombre delle cose che potrebbero essere? Ma il fantasma continuò a indicare la tomba presso la quale stava. Il cammino di noi uomini presuppone mete che con la perseveranza possono essere raggiunte, disse Scrooge. Ma se questo cammino viene abbandonato, la meta sarà diversa. Può avvenire lo stesso con ciò che mi mostri? Lo spirito rimase immobile, come sempre. Scrooge si scinò tremando verso la tomba e seguendo la direzione del dito, lesse sulla pietra di quel sepolcro negletto il suo nome, Ebenezer Scrooge. Sono dunque io l'uomo che giaceva sopra quel letto, gridò cadendo in ginocchio. Il dito passava dalla tomba a lui e viceversa. No spirito, oh no no! Ma il dito era implacabile. Spirito, urlò Scrooge afferrandolo con tutta la sua forza per il mantello. Ascoltami, non sono più l'uomo che fui, non sarò più l'uomo che sarei stato senza il tuo intervento. Perché mostrarmi tante cose se non c'è più speranza per me? Per la prima volta la mano sembrò tremare. Spirito buono, continuò Scrooge, sempre inginocchiato dinanzi a lui il viso verso terra. Tu devi intercedere per me, avere pietà di me. Promettimi che io potrò ancora, cambiando vita, mutare le ombre che mi hai mostrato. La mano ebbe un tremito più marcato. Onorerò il Natale nel mio cuore e cercherò di conservarmi in questo stato d'animo per tutto l'anno. Vivrò nel passato, nel presente e nel futuro e i tre spiriti saranno sempre presenti in me. La lezione che mi hanno dato non sarà vana. Oh, dimmi che posso far scomparire l'iscrizione di quella pietra. Nella sua angoscia si afferrò alla mano spettrale che cercò di liberarsi. Ma egli, con la forza della disperazione, la trattenne. Lo spirito, ancora una volta più forte, lo respinse. Alzando le mani in una suprema e ultima preghiera perché il suo destino fosse mutato, egli scorse qualcosa di strano nel cappuccio e nel manto del fantasma, che si rattrappirono, si restrinsero, si trasformarono nella colonina di un letto.